900 mila euro, quasi un milione da investire totalmente sui giovani. Lo annuncia l'assessorato di competenza del Comune di Napoli durante una riunione della Commissione Politiche Giovanili. I fondi arrivano da due diversi piani, uno ministeriale, il piano locale giovani da cui arrivano 500 dei 900 mila euro in questione. I restanti 400 mila euro hanno invece provenienza regionale, piano territoriale giovani. Questa cifra verrà totalmente dedicata a progetti legati e giovani che vanno dalla creazione di infrastrutture, tra cui una sala di registrazione, una web tv comunale, a fondi per l'imprenditoria giovanile. Ben 200 mila euro saranno infatti destinati a finanziare 10 tra i migliori progetti che perverranno in questi mesi. Il fiore è all'occhiello del piano presentato nelle sale del Consiglio Comunale dall'assessore ai giovani Alessandra Clemente. Abbiamo in questi mesi, in sei mesi di attività del nostro nuovo assessorato ai giovani della città di Napoli, realizzato ascolto nelle municipalità, indetto in un tavolo dove siedono i dieci amministratori delle dieci municipalità e quindi oggi ho l'onore di poter rappresentare ai colleghi di giunta ma soprattutto ai consiglieri e quindi all'organo che viene eletto qui al Consiglio il frutto di questo momento di ascolto. Quindi una progettazione dal basso per l'impiego di queste risorse. La sfida è stata quella all'inizio di voler fare un qualcosa che fosse cuscita su delle reali esigenze dei giovani. Le misure sono divise in più azioni, un'azione molto bella e alla quale tengo molto è una che abbiamo chiamato Sviluppo Napoli, cioè noi andremo a premiare dieci realtà della nostra città che saranno le dieci migliori idee imprenditoriali della nostra città, dovranno prevenire dalle dieci municipalità.